Ben arrivati a tutti, è un piacere avervi davanti, è un'emozione grandissima essere nell'università dove mi sono laureata tantissimi anni fa, ma ci sono altri che condividono questa emozione, in queste aule dove ci siamo formati, dove continuo a insegnare come docente di urbanistica, i giovani che vedete sono i miei studenti, meravigliosi studenti di questo primo anno, primo semestre di urbanistica, di che cosa vi parlerò? Vi parlerò delle cose che ho studiato, capito, ho sentito negli ultimi anni della mia ricerca, che non è una ricerca che si fa nei laboratori, nelle aule universitarie, ma si fa in mezzo alla gente, negli ospedali, nelle carceri, andando a vedere le periferie, sentendo l'umore della città. Allora spero che stasera vi passi non soltanto il senso intellettuale del mio lavoro, ma anche l'aspirazione al cambiamento del mondo, che è quello che ho sentito quando mi sono iscritta tantissimi anni fa a Architettura, sperando di cambiare il mondo e non ho ancora smesso di crederci. Quell'uomo l'ha in mezzo, si chiama Armando Punzo. Siamo a Volterra, nel carcere di Volterra. Quest'uomo 25 anni fa ha deciso di farsi internare durante il giorno, alla sera torna a casa dalla moglie e dai figli, per accompagnare come direttore artistico, teatrale, i carcerati che stanno dentro questo che è un carcere di lunga permanenza. Ci sono gli ergastolani, quelli che passeranno il resto della loro vita in quel carcere. E 25 anni fa Armando Punzo ha avuto un sogno, ha fatto un sogno, che è quello di portare l'arte, la bellezza, il teatro dentro il carcere, ma non come la classica attività che si aggiunge alla pena. Poi gli facciamo fare un po' di carcere, poi gli facciamo fare pietosamente un po' di lavoro. No, Armando Punzo ha sperato che questo luogo diventasse un ibrido, il primo teatro stabile al mondo dove i carcerati, ispirati dalla loro condizione di sofferenza, potessero fare teatro, potessero fare aggregazione. E questo luogo, che oggi il carcere di Volterra, è veramente diventato nel corso del tempo, anche con finanziamenti del Ministero dei Beni Culturali, un ibrido. Perché, torniamo alla slide precedente, gli spettacoli vengono realizzati dentro il carcere, in questo spazio che di volta in volta cambia forma e diventa l'arena, il palco, il teatro, dove succede qualcosa che non si può spiegare. Succede qualcosa che chi è dentro non sa più se è in carcere o se è libero e chi è carcerato non sa più se è un artista libero o un carcerato. Ed è questa la magia che compie uno spazio trasfigurato. Ecco la parola che vorrei regalarvi questa sera, placemaker, i plasmatori dei luoghi, quelli che non si accontentano di avere in eredità delle istituzioni, il carcere per la pena, la scuola per l'educazione, la chiesa per la preghiera, il centro commerciale per il consumo. No, hanno capito i placemaker che oggi noi abbiamo bisogno di trasformare i luoghi da dentro e di mescolare il senso di ogni luogo. Questo a breve, nei prossimi anni, diventerà un teatro stabile e allora avrà la forma ibrida, metà carcere che continua a essere e metà teatro aperto al pubblico. Vediamo un'altra storia. Ecco, questo è un piccolo comune piemontese, siamo a Viganella e questo è il classico comune montano sorto sulle pendici sbagliate della montagna. È quella parte della montagna dove per 3-4 mesi d'inverno non batte il sole e dal momento che non batte il sole alle 18-19 a Viganella si spegne la luce. È così da sempre, questo comune è sempre stato nell'ombra, ma da questa foto voi vedete che la luce è arrivata. Perché il placemaker è quello che non si rassegna l'impossibile, non si rassegna l'evidenza empirica per cui qualcosa non si possa realizzare. E questa è la storia di un sindaco e del suo architetto di paese, voi immaginatevi poche anime, non si arriva al centinaio di anime, che a un certo punto si svegliano e dicono, immagina se, immagina se portassimo la luce a Viganella, immagina se installassimo un enorme specchio basculante di 40 metri quadrati per 40, posto dalle pendici opposte della montagna e attraverso questo specchio facessimo arrivare la luce a Viganella. Beh, questo è un pensiero puerile, questo è un pensiero che potrebbe avere un bambino delle elementari quando ancora non ha scoperto che i suoi pensieri sono proibiti e sono impossibili da realizzare. Ma il sindaco di Viganella non è solo un sindaco, è un placemaker, è un plasmatore di spazi, di tempi, di luoghi e quindi installa questo specchio che porta la luce dentro nel comune, esattamente nella piazza dove le persone la sera si ritrovano e allora quello specchio cosa diventa? Questo copiato peraltro in Norvegia, ogni tanto ci vengono a copiare le belle idee, quindi in Norvegia dove hanno lo stesso problema di luce e di buio e di depressione che subentra nei luoghi che sono poco esposti al sole e alla luce, la luce arriva ed è soltanto luce ed è soltanto bellezza? No, diventa una politica sociale perché se c'è la luce le persone possono stare all'aperto più ore durante la giornata e quindi non si chiudono in casa a guardare la televisione e quindi si crea comunità e quindi dal momento che si sa che qui c'è uno specchio si attivano processi di tipo turistico, l'attenzione dei media, la curiosità dei viaggiatori che vengono a Viganella anche perché c'è lo specchio. Ecco che il sindaco di Viganella è un placemaker perché ha un'idea, non la ritiene impossibile, si sente, ed è questo un punto fondamentale, titolato a progettare l'innovazione senza averne i titoli. Chi gliela ha data l'autorizzazione al sindaco di Viganella per pensare che toccasse proprio a lui il cambiamento? Nessuno. A un certo punto il placemaker è quello che capisce che non lo potrà fare nessun altro perché gli si accende la lampadina e quella idea viene messa a terra, trasformata in un'idea concreta, imprenditoriale. Spesso vedrete altre storie, il placemaker è un imprenditore che sa andare a cercare risorse economiche ma anche competenze ma anche capacità in giro per il mondo perché non le ha lui. Lui è il regista, lui è l'ideatore, lui è il cucitore. Voi capite che noi stiamo parlando di una professione che è la più bella del mondo, la più utile perché noi in questo momento ci troviamo un mondo che non corrisponde a come dovrebbe funzionare perché ancora una volta, ecco questo è il sistema costrutto, il sistema degli specchi come voi vedete, è quello che tutti noi abbiamo fatto da piccoli col piccolo pezzo di specchio portando la luce e facendo quei giochi di luce che tutti i bambini del mondo sanno fare. Ma passare da quell'averlo fatto da piccoli nell'età in cui l'immaginazione è consentita agli esseri umani perché da piccoli si può essere immaginativi, portarsela con sé nell'adultità quando è vietato essere immaginativi perché questo è un mondo che ti chiede di essere performante, ti chiede di rispondere a un canone, non ti chiede di essere immaginativo, ma questo tempo ha bisogno di persone capace di trascendere la realtà perché i problemi che ci sfidano, questione climatica, questione pandemica e questione geopolitica, sono un tale sconquasso dei nostri equilibri che serve la capacità di immaginare l'impossibile. Questo è un posto, il Politecnico nel quale ci si cimenta nell'arte di osare l'impossibile, nella ricerca, nella scienza, nella tecnica perché sennò l'umanità non andrebbe avanti. Ma questo ovviamente non è pratica da sindaci di provincia, questo è lo stile dei più grandi al mondo e questo è lo studio, lo dico per gli architetti e gli urbanisti, questo è lo studio Diller Scofidio Renfro, quindi diciamo uno dei più grandi studi di architettura al mondo e Elisabeth Diller in particolare, quindi una donna, è dietro l'operazione dell'E-Line di New York che dal mio punto di vista è la madre di tutti i progetti di rigenerazione urbana. Tutti la conosciamo, è un progetto notissimo, oggi l'E-Line è il secondo posto più visitato turistico di New York, ma quando è nata, beh, richiedeva un certo grado di presunzione, di arroganza e di immaginazione. Perché l'E-Line, quando è stata abbandonata ed era una vecchia ferrovia di inizio secolo, realizzata da Moses e dall'ingegneria, quindi quella che doveva portare la modernità, l'innovazione, la possibilità di muoversi dentro il contesto urbano, di portare le merci fin dentro i grattacieli, che l'ardimento dell'ingegneria era, non importano i quartieri, noi sventriamo perché la modernità si deve fare largo. L'E-Line poi è stata abbandonata, per tantissimi anni è rimasta conciata così e tutti i new yorkesi ne volevano la demolizione, ragionevole, perché questo spazio era indecente, indecoroso, ma proprio in mezzo alla Manhattan dei soldi e del business, avere un obrobio così. Fino alla sera in cui David e Damond, che sono i due protagonisti di questa iniziativa di place making, salgono sull'E-Line, è una storia che sapete, questa è l'equivalente delle parabole evangeliche, cioè quella storia che sappiamo tutti ma ogni volta che ce la raccontiamo, beh insomma ci conforta nei nostri intendimenti. Salgono sull'E-Line una sera durante un'assemblea del quartiere e vedono quello che tutti vedono ma che non riescono a guardare. Cioè gli altri vedono il degrado, la rovina, l'abbandono, David e Damond vedono un giardino, un paesaggio in mezzo alle case. Con che facoltà dell'umano lo vedono che quello era un giardino? Non lo vedono con la razionalità, non lo vedono con lo spirito solo del business, lo vedono con l'occhio dell'immaginazione. Cioè loro capiscono che questo può diventare facilmente, in modo sostenibile, in modo fattibile, un giardino pensile fra le case in mezzo ai grattacieli, poetico, accessibile a tutti, pubblico nella patria del business e del privato. Questo diventa un grande parco lineare che è questo, dove chiamano Elisabeth Diller, la protagonista del nostro racconto. E, udite, udite, architetti, il mandato che viene dato a Elisabeth Diller è salva l'highline dagli architetti. Cioè fai in modo tale che quello spazio meraviglioso non diventi il solco per costruire, 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 buildi, grattacieli, centri commerciali. E quello spazio preservato alla costruzione torna ad essere spazio comune, spazio pubblico, spazio di tutti, spazio romantico. Eh ma allora stiamo parlando di una cosa sentimentale, poetica? No, assolutamente, perché l'highline, associazione e amici dell'highline, ha fatto di questa operazione un business trepitoso, raccogliendo tantissimi soldi a un'iniziativa privata su suolo pubblico e quindi non ha chiesto soldi pubblici, ha fatto innalzare in maniera spaventosa le rendite fondiarie, i valori immobiliari del circondario, perché, lo capite bene, avere un grattacielo che affaccia su un giardino o averlo su una ferrovia dismessa fa la differenza, non bisogna essere urbanisti per capirlo, e tutta la zona di Manhattan che aveva subito lo shock delle torri gemelle dell'attentato e quindi che per tanti anni era rimasta silente ritrova la ragione d'essere di questo contesto. Quindi il placemaker non è un ingenuo abitatore di questo mondo, usa le leve dell'economia, della rigenerazione, della poetica e della politica a tutta la tavolozza dei colori, ma reinventa un luogo, rigenera, guardate le erre e il rotacismo come ci aiutano, ripiantuma, rinaturalizza, e questa è la missione, rimette ordine dove è andato perso. Ed è questo, il placemaker è il vero protagonista di questo passaggio, colui che si cimenta in processi di dematerializzazione del mondo, facendo nascere nuove economie, nuove possibilità di abitare, nuove forme di socialità, vuole tutto il placemaker. Voi capite che siamo lontani anni luce dall'archistar, dall'interprete che arriva, magistralmente capace di interpretare un luogo senza avere né radici, né connessioni, né legami affettivi, non è l'interprete unico, non è l'architetto superstar, non è l'urbanista pianificatore, non è il designer che pensa soltanto all'estetica. No, qui siamo dentro uno scenario che tiene insieme l'etica e l'estetica. Faccio bene cose belle, le so raccontare. Il placemaker è veramente l'iniziatore di un'epoca che ci auguriamo sia quella dei nostri studenti, quelle dei prossimi ingegneri, quelle dei prossimi urbanisti, quelle dei prossimi architetti, e non solo. Rigenera, reinventa, riconnette spazi, reintegra natura, ripristina ecosistemi, ricuce periferia, reinventa borghi abbandonati. La missione è ovvia. Sapete perché ovvia? Perché nel 2020 è successa una cosa spaventosa, che non è la pandemia. Nel 2020 la massa artificiale delle cose realizzate dall'uomo, la massa antropica, ha superato la biomassa naturale. È come dire che tutta la natura, il patrimonio di foreste, di mari, di montagne, di fiumi, che noi abbiamo ereditato dai nostri progenitori, è in meno degli oggetti realizzati dall'uomo, città, infrastrutture, elettrodomestici, macchine. C'è stato il sorpasso. Ma questo sorpasso ha costruito un mondo ingombrato di oggetti, non sempre con un senso logico e un equilibrio, crisi climatica ce lo dice tra di loro. E vediamo un'altra storia. Poi vi spiego perché racconto storie. Non palle, storie, che è una cosa molto diversa. Palle non ve le racconterei. Questo è Antonio Lofredo, parroco a Rione Sanità. Rione Sanità lo avete almeno nell'orecchio, perché è la casa di Totò, è il luogo dove è nata la commedia dell'arte, dove ci sono un patrimonio architettonico strepitoso, ma c'è la camorra che arma i bambini e fa spacciare i bambini la droga. E quindi non è proprio uno di quei posti dove dici ah che bello, sono diventato il parroco della sanità. E Antonio Lofredo viene incardinato con cinque parrocchie. E queste cinque parrocchie insistono su una zona storica, bellissima, sopra la Napoli sotterranea. Antonio Lofredo poteva fare tante cose nella vita, poteva fare il pastore di anime, poteva fare il prete antimafia, poteva fare l'educatore di strada. No, l'avrete già capito. Antonio Lofredo è un placemaker nato e quindi un giorno si sveglia e dice, un giorno sono mesi, ci avrà messo qualche tempo a lavorare il progetto, immagina se le catacombe che stanno sotto la parrocchia ed erano diventate negli anni un immondezzaio pieno di detriti, di deposito, di tutto l'immondo di Napoli. Immagina se riportassimo all'antico splendore le catacombe di Napoli. Immagina se, andiamo pure avanti, tanto forse mi pare, non voglio farvi vedere il video perché ve lo racconto io. Immagina se le catacombe diventassero un posto dove si promuove il turismo. Immagina se diventassero un posto dove si crea bellezza. Immagina se diventassero il ruogo del riscatto delle vite e delle persone. Ma non è solo un processo di immaginazione. Lofredo è un imprenditore civile e comincia ad attivare cooperative di comunità, cooperative edilizie che ripuliscono le catacombe, cooperative sociali che si occupano dell'ospitalità, della realizzazione del sito, dell'accoglienza turistica. E questa diventa un'impresa. Un'impresa cos'è? È un luogo dove si fa profitto, si distribuiscono gli utili, si crea ricchezza, si offrono posti di lavoro. Capite la concretezza di questa figura? Lui è il regista, capisce dove vuole andare, ma lo strumento è il bello, lo strumento è la rigenerazione di un luogo, ma non è fine a se stessa, perché il nostro è un paese che ha buttato via milioni di euro per ripristinare luoghi senza ricordarsi che le persone sono più importanti dei luoghi, che le persone sono più importanti delle cose. Questo Lofredo ce l'ha ben chiaro. E quindi manda i suoi studenti a Londra a imparare l'inglese per diventare gli operatori turistici, le guide di questa esperienza sociale, civile, ambientale, dei beni culturali che è oggi andare a visitare le catacombe di Napoli, dove sei preso per mano da questi ragazzi che vengono dalla strada e che attraverso il lavoro trovano la dignità della loro vita. Quindi il place maker, voi capite, che tiene insieme il lavoro, l'economia, il riscatto dei luoghi, la bellezza, ma non quella bellezza che nel nostro paese va tanto per cui io rimetto a lucido le cose, rispolvero, riqualifico, restauro, no, rigenero. E la parola è potente. Rigenero vuol dire che regalo a un luogo una seconda vita che non ha mai avuto, diversa dal suo passato, in rottura col suo passato. Questi sono alcuni numeri, belli i numeri, quando dicono che all'inizio c'erano cinque dipendenti della cooperativa, i cinque ragazzi della parrocchia, si parte così, e dopo, e 12.000 metri, no, scusate, e mille metri di patrimonio recuperato, si parte così, si parte dal piccolo, e poi oggi ci sono 34 dipendenti strutturati, 12.000 metri quadrati di patrimonio recuperato, quasi 130.000 visitatori. e sono dati prima della pandemia. Oggi, ovviamente, questo luogo è tornato a splendere. Ecco che allora il placemaker, voi capite che ha delle competenze un po' particolari, perché deve saper fare un business plan, deve saper andare a chiedere quali sono le competenze di restauro, di rigenerazione più utili a quello scopo. Deve usare molto bene gli strumenti della comunicazione. Infatti, Antonio Lofredo esce con un TED, nel quale racconta la sua storia, quindi nella forma più americana che possiamo immaginare di conversazione, la mia di stasera, nella quale attraverso le storie si entra dentro un tema, si elaborano le storie e le storie hanno questo di bello. Io racconto storie per questo motivo, ve lo spiego. Perché il nostro cervello è ingannatore, attiva quelle parti della corteccia le stesse della corteccia cerebrale le stesse quando noi viviamo una esperienza o ce la sentiamo raccontare bene. Quindi noi abbiamo uno strumento, noi docenti, noi politici, noi comunicatori, strepitoso, perché noi possiamo attraverso la narrazione e non esiste narrativa nel campo dell'urbanistica, dell'architettura, del design, e non raccontiamo le storie ed è un deficit mostruoso perché se non sai raccontare storie non si attiva quella parte della corteccia che si emoziona, che trattiene il ricordo e che poi viene attivata perché ti viene voglia di è quello che dobbiamo ottenere nei nostri ragazzi, ti viene voglia di diventare un place maker e non vi so dire in questo anno il libro è uscito a novembre di un anno fa quante sono state le storie che le persone mi raccontano via mail, mi raccontano le loro storie di identificazione, ho capito cosa volevo fare nella vita, ho capito quello che ho fatto tutta la vita ma non mi è stato riconosciuto, è la storia di Don Marco Ruffini di Norcia, parroco che vive in baracca insieme alla sua comunità da quando c'è stato sei anni fa al terremoto e vive lì nella stessa baracca di allora perché non c'è stata la ricostruzione, non c'è stata nessuna presenza politica ma Don Marco è un place maker e quindi mi scrive via Whatsapp e mi manda il progetto del campanile orizzontale che non è il bosco verticale è il campanile orizzontale ma Don Marco è ironico, sta in questo tempo, sa che bisogna dare un nome alle cose per averle in mano e quindi costruisce insieme ai vigili del fuoco della sua comunità il campanile orizzontale in cui le campane non devono ergersi in altezza ma stanno appese in basso e i bambini possono suonarle la domenica prima della messa e le campane non servono a chiamare la gente a messa le campane servono a dare il senso della rinascita senso della comunità il senso del non dobbiamo aspettare la politica per rimetterci in piedi questa è una delle infinite storie che mi vengono raccontate perché storie chiamano storie vita chiama vita speranza chiama speranza questo è il meccanismo e di quante storie avremo bisogno per saturare la nostra fame di senso e di futuro che viene spenta appena usciamo da quest'aula e questa è un'altra cosa strepitosa questa è una delle delle cappelle del rione sanità l'offredo viene a sapere che sono in cerca di una palestra per i bambini dove allenarsi per la box e dice ce l'ho io la palestra ce l'ho io la palestra ed è la cappella dove lascia le madonne lascia i santi lascia tutto quello che deve starci e i bambini vengono allenati dalle fiamme gialle di giorno e di notte per strapparle alla strada place maker fa politiche antidispersione scolastica si fa rigenerazione dei luoghi si fa attivazione di processi si fa economia si guardate quante cose fa semplicemente perché osa lo spiazzamento di immaginare che non possiamo permetterci di tenere le cappelle chiuse avere i bambini per strada dalla merced della camorra e quindi è molto semplice attivare quella che chiamo l'intelligenza connettiva con la n nasale connettiva che ti fa attivare la sinapsi tra la mia cappella e il tuo bisogno io ho la cappella vuota tu non sai dove portare i bambini ma se tu porti i bambini nella mia cappella facciamo una cosa che è più della somma di te di me è ripensare il senso dei luoghi placemaker lasciamolo tanto questi sono predicozzi che troverete variamente conditi nel libro per chi li vorrà e quindi con una carrellata semplicemente velocissima di belle cose perché chi fa placemaking in Italia oggi la nuova generazione gli architetti proprio quelli appena usciti i gruppi di architetti proprio appena usciti freschi di laurea dove c'è il designer c'è l'ingegnere però poi c'è l'urbanista poi c'è il sociologo tutte persone categorie a cui hanno tendenzialmente chiuso le porte delle professioni e che oggi capiscono che possono reinventare il loro lavoro partendo dai luoghi questo è Andreco che è uno scienziato che si occupa di rigenerazione urbana ma lui è uno scienziato in senso stretto e però guardate che opere fa qui siamo al quartiere Monti a Roma ve le faccio solo vedere perché valgono da soli la visione questo è un piccolo paese orizzontale un gruppo di giovanissimi architetti romani questo è uno dei loro progetti in Sicilia anche qui fatto di niente ma il recupero della strada il colore l'identità i ragazzi che tornano a giocare per le strade del paese e questo intervento è sì di rigenerazione ma in senso lato perché che cosa ci portiamo a casa uno spazio finalmente identitario per una comunità che rischierebbe di perdere la sua la sua storia e poi questa è Favara Favara anche qui la madre dei progetti in Italia Florinda Saieva e Andrea Bartali sono stati famiglia con due figli è stata per tanto tempo a Londra lui fa il notaio di lavoro e beh place maker lo possono fare proprio tutti perché qui abbiamo proprio Andrea mi perdoni abbiamo anche il notaio il notaio che torna da Londra nella sua città natale Favara che è una città di dubbia bellezza in Sicilia e decide che la bellezza lui la vuole tirar fuori a tutti i costi da questi luoghi abbandonati dove non c'è più il senso e riporta la bellezza e riporta l'architettura e riporta la pedagogia e la voglia di incontrarsi nei luoghi e questa è Favara oggi che è un posto incantevole di incontro di formazione al bello all'architettura di festival dove le case hanno ripreso a vivere ma non perché gli si è data una bella mano di pittura ma perché quelle immagini in rottura con la Favara precedente dell'abbandono della mafia del degrado oggi racconta una storia disruptive completamente diversa dal suo passato e però che tiene insieme la sciura Maria ovviamente che resta lì perché non è gentrification non è che io butto fuori i poveri perché faccio un posto figo come faremmo a Milano no quella resta la Favara dei poveri dei ricchi dei beati e dei dannati e poi la natura ingrediente fondamentale oggi crisi climatica riportare le piante processo di piantumazione non si chiama forestami non si chiama italiami si chiama Florinda Saieva che ama le piante e le porta in tutti i luoghi abbandonati di Favara e allora che cos'è questa estetica assolutamente contemporanea che io spero che i miei ragazzi giovani capiscano che tu entri in un luogo abbandonato e trovi l'incanto di un giardino dove soffermarti e le persone anziane dicono io vado lì perché mi rilasso perché prego perché mi ispirano non è una chiesa ma è sacro e c'è la natura in mezzo alle case quale idea di luoghi abbiamo quelle scatole contenitori di cui vi parlavo prima è questo la natura che ritorna luogo dell'abbandono dove invece la natura dice la sua l'abbiamo imparato con la pandemia e questo Banzara del Vallo sempre giovanissimi sempre quelli chiamiamo gli expat questo gruppo di ragazzi che è stato all'estero si è formato ha fatto i master ha fatto tutte quelle belle cose che fanno i nostri ragazzi gli ulissi che poi dopo a un certo punto decidono di tornare a casa e questo Carlo che decide di tornare in questa cava che in parte era di proprietà della sua famiglia ma non vuole che la cava resti un bel ricordo dei suoi avi questa cava come vedete viene completamente ripensata e diventa uno spazio di progetto di architettura di comunicazione dove si fanno incontri si attivano processi si portano giovani da ogni parte del mondo e questo è come si chiama l'artista albero nero che è un artista bravissimo che lavora su tutti i spazi abbandonati attraverso il colore rianima pezzi di muro angoli di paesaggio che sono rimasti abbandonati dieci minuti perfetto dieci minuti perché perché dopo mi piacerebbe aprire uno spazio di domande come si fa ma perché ma dove ma dove quelle robe lì che spero che vi interessino che siamo qua anche per quello crisi climatica la crisi climatica ovviamente la possiamo vivere in tanti modi pensando che l'immaginazione non serva pensando che è un processo ineluttabile pensando che siamo così piccoli che non possiamo fronteggiare il cambiamento oppure oppure come dice Amitav Ghosh uno dei più grandi scrittori viventi quando ci dice ammonisce la crisi climatica è fondamentalmente una crisi della cultura e quindi dell'immaginazione che ci impedisce di pensare che il mondo noi lo possiamo cambiare che noi possiamo trasformare le città perché siano capaci di mitigare capaci di affrontare persino sul riscaldamento globale le alluvioni cambiamento climatico e questa è una cosa che noi stiamo imparando da anni dall'Olanda questi sono i giardini di Kokedal ma potremmo essere quindi grandi periferie delle città olandesi dove hanno sperimentato ormai da una quindicina d'anni le piazze allagabili e i giardini inondabili partono da questo preciso punto di osservazione c'è la carestia c'è la siccità i cambiamenti climatici porteranno a periodi di grande siccità Virzi addirittura ne fa un film e poi a periodi nei quali sulle città precipiteranno masse d'acqua le classiche bombe d'acqua non ci possiamo più permettere di sprecare l'acqua quando arriva e di non averla quando non arriva e quindi gli olandesi che da sempre armeggiano con la terra e se la contendono al mare gli olandesi cominciano a pensare al rovescio ma se fosse una fortuna questa ma se non ci costringesse a immaginare lo stoccaggio dell'acqua piovana dentro le città e questo diventasse spazio di gioco spazio di rigenerazione spazio di salute pubblica e rovescia il problema perché fa dell'invaso che trattiene le acque la possibilità di gioco per i bambini sono delle pozze queste ad esempio sono le piazze che si allagano questi sono spazi posti davanti alle scuole che quando non piove sono campi da gioco e quando piove sono delle piscine che trattengono l'acqua poi vengono purificate l'acqua piovana viene usata per l'agricoltura urbana ma nei due giorni di stoccaggio dell'acqua ci si mette le caloche e si va a sguazzare nell'acqua perché si gioca con l'acqua piovana perché c'è una dimensione empatica con la natura positiva dov'è che sei Giuseppe le buone notizie dovrai sai allora c'è una dimensione positiva che noi dobbiamo mantenere con noi anche nella sciagura anche nella rovina e allora i bambini noi stiamo mandando ai ragazzi un messaggio attraverso l'architettura e lo spazio che l'acqua piovana è un bene fondamentale ma non è soltanto una morale che ti sto facendo diventa lo strumento che è il gioco che è preconscio che è pre-razionale che attraverso l'esperienza ti fa interiorizzare il valore dell'acqua e quindi non ho lo scolmatore oppure il condotto per l'acqua piovana noi stiamo sempre trasformando tutto in qualcosa di tecnico no oggi la tecnica deve essere anche poetica capace di comunicare e spazio di educazione questa è la lezione che noi abbiamo soprattutto da copenhagen dall'Olanda da Rotterdam dove il cambiamento climatico diventa la sfida per ripensare il nostro spazio urbano e la dimensione ludica del piacere del gioco non è qualcosa che moralmente censuro perché mi devo occupare di cose serie il cambiamento climatico e poi come dicono i miei figli adolescenti che si sono già fatti come voi una pandemia mamma non parliamo dei cambiamenti climatici perché ci manca solo quello la terza guerra mondiale i cambiamenti climatici e la pandemia non possiamo mettere sulle spalle dei giovani tutto sto carico è nostra responsabilità trasformare anche le crisi più pesanti in condizioni di opportunità il placemaker è quello che guarda quello che tutti guardano e vede la soluzione anziché il problema e quindi qui ci sono le tre capacità del placemaker quelle che io cerco di passare ai miei studenti l'intelligenza dei luoghi capire e sono David e Damon che guardano le line salgono guardano capiscono immaginano l'esperienza della realtà ecco perché l'archistar oggi non ha niente da dire a questo mondo perché il placemaker sta dentro anima corpo spesso torna nel luogo di origine ha un legame sentimentale con i luoghi perché questo fa parte del suo bagaglio e la reinvenzione dell'esistente la capacità immaginifica di proiettarsi oltre di progettare siamo nel gota della progettazione progettare vuol dire mandare il cuore oltre l'ostacolo e quindi potremmo vedere questo sì 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 mi piace chiudere con rosegard il più figo di tutti designer cresciuto in mezzo alle calli e alle acque dell'olanda bambino che giocava con le rane e che a un certo punto diventa grande fa il designer ma capisce che lui vuole riconnettere il mondo vuole trovare le soluzioni al problemi di questo tempo e quindi immagina e dice ma perché non potremmo produrre energia dentro le discoteche dove i ragazzi calpestano il terreno e attraverso le onde che procurano potremmo produrre energia ma perché non potremmo tutto il processo mentale di rosegard è così ma perché non potremmo accendere le luci lungo le autostrade soltanto con dei sensori soltanto al passaggio dell'automobile per non sprecare l'energia ma perché non ma perché non e questo processo mentale fa oggi di dan rosegard uno dei più grandi perché perché è dentro la realtà è un plasmatore di luoghi avete visto la pista ciclabile questa che si illumina con un materiale che ovviamente è fosforescente quindi consente a costo zero di riflettere la luce durante la notte e che cos'è che distingue questo progetto realizzato per uno degli anniversari della nascita di van gogh che la soluzione tecnica ho bisogno della luce per la pista ciclabile di notte si coniuga con la capacità poetica di emozionare è questo che noi dobbiamo riconquistare alle nostre pratiche alle nostre professioni la capacità di tenere insieme la tecnica e la poetica la politica l'impegno militante di un don lofredo con la capacità di emozionare e di usare i sentimenti perché queste due componenti dell'umano le abbiamo dissociate per troppi anni abbiamo pensato che si potessero offrire pensate cure mediche senza curare l'anima di provvedere alla di costruire carceri senza riscattare la dimensione delle della dignità umana abbiamo pensato di poter fare scuole che non attivino processi creativi nei bambini e quindi li parcheggiamo come dentro garage ognuno col suo banco ecco oggi capiamo che la nostra dimensione dell'umano che è stata provata dalla pandemia e che è sfidata dalle crisi tira fuori noi un desiderio più vivo di natura di senso di spazi di qualità di bellezza e vi richiamo l'ultimo progetto di rosegaard in ordine di tempo che è questo piccole cittadine per ora in olanda ma è richiesto in giro per tutta l'europa rosegaard propone a tutta la cittadina per una notte di spegnere la luce alla stessa ora tutte le luci si spengono e si scende in strada a guardare le stelle è un'idea che rosegaard è venuta durante la pandemia quando sentiva che lo stare a casa ognuno nella sua casa ci privava di quella bellezza di sentirci fratelli e di sentirci sotto lo stesso tetto e questo è stato un progetto che lui ha proposto all'unesco e oggi sta girando nelle varie città e voi capite che è fatto di niente in fondo di cosa si incarica il più grande designer vivente di un'operazione tutta immateriale si fa buio si spengono le luci ci si emoziona si guardano le stelle qual è il retro pensiero a sto anche risparmiando l'energia ma non sono passato attraverso il moralismo che è quello che di solito ispira i nostri comportamenti spegni la luce che si spegne la luce che consumi energia non aprire il rubinetto mentre lavi i denti che c'è tutto quel moralismo che ci impedisce di essere contenti di essere ecologisti no c'è l'idea che attraverso le emozioni attraverso l'empatia attraverso l'esperienza in prima battuta mi emoziono e poi tornato a casa ho capito che spegnere la luce risparmiare sulla bolletta è anche un gesto responsabile questo oggi è l'apice del design internazionale voi capite che noi stavamo lavorando sull'immateriale sul simbolico sul creativo sull'immaginativo su tutto quello che non ha a che fare con la materia ma a che fare con le relazioni e con il senso